Naldo è morto il figlio dell'ex dell'udinese aveva quattro anni il dramma dopo un incidente stradale tragedia per il calciatore Naldo difensore brasiliano con un passato in serie a tra la fila di Udine e Bologna il figlio del calciatore di soli quattro anni è morto per le conseguenze di un incidente stradale a darne la tragica notizia è stata l'antalaiera sport della squadra turca dove gioca oggi il 35enne abbiamo appreso scrivono con profonda tristezza la notizia della morte di Davi figlio del nostro calciatore Naldo Pereira si legge nel comunicato che il mese scorso ha avuto un incidente che dio abbi pietà del piccolo Davi esprimiamo quindi scrivono ancora le nostre condolianze al nostro calciatore Naldo e alla sua famiglia in particolare ai suoi tifosi ai parenti e alla comunità il piccolino era stato coinvolto un mese fa in un incidente stradale nonostante tentativi dei medici di servargli la vita il bimbo è deceduto in ospedale dove era ricoverato in terapia intensiva